Buonasera, i recenti provvedimenti legati alla legge di bilancio, alle modifiche intervenute a livello legislativo in materia fiscale, in materia di interventi sulla gestione della finanziaria di fine anno, hanno prodotto una serie di novità su quali molta confusione si è determinata. Forse vale la pena di puntualizzare alcune situazioni per almeno sapere esattamente di cosa stiamo parlando e eventualmente poi esprimere una propria opinione personale, ma in qualche modo capire di cosa stiamo parlando. Ecco, innanzitutto una novità interessante nella legge di bilancio e appare sul lavoro femminile in caso di gravidanza. È consentito in buona sostanza alla lavoratrice madre di poter continuare a lavorare fino al nono mese di gravidanza e utilizzare quindi il periodo di astensione obbligatoria, che sarebbe obbligatorio a dei due mesi prima del parto, dopo la nascita del bambino. Questa è la novità, facciamo un passo indietro, perché se no rischiamo di non capire. Qual è la norma? Cosa dice la disposizione? Allora, l'esposizione dice che il decreto 151 del 2001 dice che la lavoratrice madre incinta è tenuta ad astenersi dal lavoro, cioè non può lavorare, il che vuol dire che non può a lei e il datore di lavoro non può farla lavorare, nei due mesi antecedenti alla data del parto e nei tre mesi successivi alla data del parto. Questo è un periodo di assenza obbligatoria. Dopo esistono i periodi di assenza facoltativa, di astensione facoltativa, ma i cinque mesi sono un'attenzione obbligatoria che la legge impone alla madre e al datore di lavoro nell'interesse collettivo alla salute anche nell'interesse del bambino appena nato. O a questo punto già in passato sappiamo che era consentita alla donna uno slittamento di questi cinque mesi, cioè in buona sostanza poter lavorare fino all'ottavo mese e poi recuperare questo mese dopo il parto, quindi avere un mese quattro. Oggi la possibilità è ulteriormente consentita, e cioè la donna ha la possibilità di chiedere, di scegliere, di lavorare fino al nono mese, quindi fino al ridosso della nascita e potere poi utilizzare i cinque mesi a questo punto di astensione dopo la nascita del figlio. Attenzione, attenzione, è una scelta della donna, non è assolutamente imposto, obbligato la donna a fare questa scelta. In qualche modo risponde anche ad alcune esigenze che avevano manifestato le famiglie, le donne, nel senso che molte signore, come dire, stanno bene in periodo di gravidanza fino al termine, ed è la nascita poi del bambino, è l'organizzazione di vita personale di famiglia che viene coinvolta in maniera totale dopo la nascita di un figlio, e quindi la possibilità di poter organizzare meglio un mese in più, due mesi in più, perché diventano cinque mesi dopo la nascita, può diventare un tempo che comincia ad avere, come dire, un suo contenuto, una sua dimensione significativa. Ma non è sufficiente, non è sufficiente la decisione, come la volontà della donna. La legge esplicitamente dice che in un interesse di tutela anche della salute e dell'interesse del bambino appena nato, la scelta da parte, l'autorizzazione a lavorare fino al termine della gravidanza, è un'autorizzazione che deve essere approvata ed è subordinata ad una valutazione medica da parte degli organismi sanitari della unità sanitaria locale e da parte del medico cosiddetto competente, cioè del medico aziendale in cui venga fatta una valutazione in relazione alla condizione fisica della donna, ma in relazione anche, e questo è il riferimento al medico competente, a quelli che sono l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, l'ambiente di lavoro, che un proseguimento di un'attività lavorativa fino al nono mese non possa diventare un elemento di pregiudizio per la salute della donna e per la salute del minore. quindi attenzione, non c'è assolutamente un meccanismo di obbligo delle donne di andare a lavorare fino al nono mese o si fanno lavorare fino al nono mese, è riconosciuto un diritto di possibilità della donna di poter chiedere di ottenere questa cosa purché questa scelta non diventi di pregiudizio alla salute personale del bambino, subordinato in questo caso quindi ad una valutazione di tipo medico legale, medico da parte degli organismi sanitari. colgo l'occasione della valutazione di queste informazioni sulla divieto di adivizione del lavoro delle donne in gravidanza per segnalare un'altra novità della legge di bilancio e che personalmente ritengo di una qualche perplessità. La legge di bilancio proroga anche per il 2019 la cosiddetta carta di famiglia. Cosa è la carta di famiglia? La carta di famiglia è la possibilità per le famiglie numerose con reddito scarso, stiamo parlando di una soglia se ben ricordo di 30 mila Euro annue per tutta la famiglia, attenzione non a livello individuale, per tutta la famiglia, stiamo parlando di una famiglia con almeno 3 figli al di sotto dei 26 anni tutti non senza reddito e quindi situazioni di famiglie in condizioni oggettivamente di una qualche difficoltà e quindi la possibilità di chiedere e di ottenere questa carta famiglia che è un meccanismo di possibilità non tanto di avere dei soldi, ma di possibilità di avere degli sconti presso una serie di esercizi commerciali convenzionati e quindi la possibilità di acquistare beni alimentari ad altri beni di consumo, ma anche la possibilità di utilizzare questa carta per pagare la bolletta e per pagare i conti del condominio e vi discorrendo. Ebbene questa carta attenzione che va fatta alla domanda presso il singolo comune per cui se uno volesse informarsi vale la pena di farlo presso il comune, non è una carta IMS ma è una carta che viene gestita e le domande vengono fatte ai singoli comuni, è oggi a partire dal 2019 limitata ai soli cittadini, ai soli famiglie di italiani oppure di stranieri comunitari, comunità europea. non c'è più la possibilità in precedente presenza sugli stranieri legalmente, regolarmente soggiornanti in Italia. Ecco questa limitazione secca nei confronti dei cittadini estracomunitari, questa limitazione secca, malgrado un eventuale periodo, lungo periodo di permanenza regolare in Italia, credo che non possa sfuggire a qualche elemento di vizio sul piano della costituzionalità. poi possiamo fare tutto il dibattito politico che vogliamo, ma esistono alcuni paletti a livello costituzionale e di principi di fondo del nostro ordinamento che credo difficile poter scardinare, tra l'altro incidendo proprio su una situazione non tanto di generale problema rapporto italiano straniero, ma proprio sulle famiglie che hanno esigenze di bisogno e di assistenza. Grazie.